Buonasera a tutti e benvenuti. Mondiali di calcio in Qatar. Parliamo di calcio? No, anche perché non gioca l'Italia e quindi è così, insomma sono un po' di parte. Parliamo di diritti umani, parliamo di violazioni, parliamo di quello che è successo, che sta succedendo, che accadrà nei prossimi giorni. Fra l'altro siamo al termine della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi siamo anche a tema se proprio vogliamo. Qatar nel mirino di tutti da sempre, prima dei mondiali, violazione dei diritti sul lavoro, migliaia di lavoratori morti senza le più elementari cautele anti-infortunistiche, problemi di inquinamento potente, problemi di assoluta proibizione di ciò che possa essere considerato diverso o malattia mentale, centri di conversione per gli omosessuali, carcere per chi si ritrova a passeggiare in compagnia di una persona dell'altro sesso in atteggiamenti non consoni secondo il Qatar. Tutto questo, in questo ci sta anche la famosa fascia del capitano color arcobaleno per la tutela di questi diritti LGBT che le squadre, che le squadre in particolare europee volevano indossare, quindi capitano con la fascia arcobaleno. Tutti tacciono sino al 21 novembre, dove si dice all'Inghilterra in questo caso, no, la fascia non si può vietato. Ma come? L'abbiamo fatto negli europei, lo facevamo? Non si può, lo dice la FIFA. Anzi, chi indossa la fascia o altro, ammunizione, punteggi, squalifiche, sanzioni di natura disciplinare e sportiva? Lo dice la FIFA. Ci fermiamo tutti. Quella FIFA dove il presidente Infantino in conferenza stampa, prima dell'inizio dei mondiali, aveva detto io sono catariota, sono arabo, sono un lavoratore migrante, sono gay, sono per tutte queste cose, poi immediatamente accondiscendere la FIFA al Qatar che dice signori non ci provate, attivisti che vengono fermati, portati via, con la maglietta, eccetera. Allora, non ce l'ho nemmeno con i giocatori di calcio, ma è una questione diversa dell'interpretazione dei diritti umani, della tutela, della salvaguardia dei diritti di altri. Asamini, Iran, morta, disordini anche in questo momento. Teniamolo un attimo da parte questo discorso. E allora dico benissimo il gesto simbolico, la ciocca dei capelli, la taglio, manifesto, sono solidale e va bene. Il calciatore, ripeto, non è una critica, che dice voglio fare questo, voglio essere solidale. No, non puoi, dice la FIFA, la maglia, la fascia non la indossa. Quindi si ferma, ferma lì la battaglia per i diritti civili. Non posso dire nulla, ecco, è una scelta, è stato fatto. Guardiamo però, guardiamo però chi fa una scelta diversa. El Ayasif, capitano della nazionale iraniana. Gli iraniani non fanno un discorso di fascia non fascia, la FIFA mi squalifica, la FIFA mi punisce, vengo ammonito, poche cose, un rischio anche minimale. La squadra iraniana si rifiuta di cantare l'inno nazionale davanti alla nomenclatura iraniana in un periodo di disordini, a solidarietà delle donne, a solidarietà delle persone che stanno manifestando, a solidarietà di un cambiamento in quel paese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Non è un problema disqualifica di assumersi o di non assumersi una responsabilità. La squadra iraniana, lo vogliamo dire banalmente, rischia la vita? Vengono considerati adesso dall'Iran dei traditori. Quando torneranno in Iran che cosa accadrà alla squadra nazionale di calcio iraniana? Verranno inseriti in centri di rieducazione, arrestati, le famiglie e quanto altro. Sono due modi diversi di manifestare, di voler chiedere la tutela dei diritti umani. Primo modo lo faccio, la FIFA dice cartellino giallo non lo faccio più. Secondo modo l'Iran non canto l'inna, l'inno nazionale. Sono un traditore. Vediamo cosa succederà al rientro in patria. Grazie.